Gentili telespettatori, buona giornata. Certo che i fondi russi a dieci giorni dal voto sono un po' sospetti e poi l'ambasciatore che rilascia una dichiarazione di un'intervista su un giornale di sinistra italiana dove parla di fondi dati a tutti i partiti di centrodestra, sembra proprio che ci sia la volontà di modificare l'esito delle elezioni italiane. L'intelligence degli Stati Uniti dice 300 milioni di dollari a 24 paesi ma non fa i nomi dei paesi, non fa i nomi dei politici e poi arriva l'ambasciatore, USA, che dice che questi soldi sono andati ai partiti di centrodestra. A me sembra che tutto combaci, tirano fuori questi fondi senza dire chi, ma arriva l'ambasciatore e dice chi, li avrebbe presi. Sembra proprio tutto fatto ad arte per intervenire nelle elezioni politiche. Nelle fonti di intelligence americane non c'è niente di specifico sull'Italia. Si parla di 300 milioni destinati a partiti stranieri, oltre 24 paesi, e vengono accusati in Italia, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Matteo Salvini e Giorgia Meloni partono con le querele, verso chi insinua o dice cose false, senza nessun fondamento. Soprattutto verso la Repubblica e questo ambasciatore che racconta queste cose. Salvini dice Strano che a dieci giorni dal voto arrivino queste notizie false. Sono dieci anni che ci sono inchieste che non hanno mai trovato nulla perché non c'è nulla. E Salvini aggiunge Se deve intervenire il Copasir e facciano quello che vogliono, approfondiscono, chiedano, io non ho mai preso un rublo, chi aiuta la Lega lo fa. In Italia Anche Giorgia Meloni replica le accuse che sono state rivolte contro Fratelli d'Italia come un riflesso. Dice Sono tutte verificabili le nostre forme di finanziamento. Sono certa che Fratelli d'Italia non prenda soldi da stranieri. Querelo la Repubblica e l'ambasciatore, Volker, annuncia la leader di Fratelli d'Italia, intervistata a Radio 24. Adolfo Urso, che non è parente di Barbara d'Urso, ma è Adolfo Urso, senza di apostrofo, su Rai 3 nella trasmissione Agora dice Mi sono confrontato con l'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, sul rapporto dell'intelligence USA che riferisce di finanziamenti della Russia a partiti di paesi esteri. E al momento non esistono notizie che ci sia l'Italia tra i paesi coinvolti. Il Copasir si riunirà nelle prossime ore, probabilmente venerdì. Ho concordato con Gabrielli di realizzare una riunione del comitato, penso si terrà venerdì, aggiunge nuovamente. Il comitato si riunirà con l'audizione di Gabrielli e in quella sede verificheremo se le avremo altre notizie in merito. Pertanto alla data di oggi, nel momento che vi scrivo questo video, non c'è in quel rapporto di intelligence detto nulla sull'Italia. Ma non c'è detto nulla sull'Italia non perché hanno fatto l'elenco di 24 paesi e non c'è l'Italia. Non c'è proprio l'elenco dei paesi, non c'è nessun nome. Strano, vero, che l'intelligence degli Stati Uniti a dieci giorni dal voto in Italia, paese fondamentale all'interno della NATO e all'interno dell'Europa, eccetera, eccetera, uno dei primi alleati degli Stati Uniti, tiri fuori una notizia senza dire esattamente nel dettaglio che cosa. Come? C'è una notizia con 300 milioni di dollari e 24 paesi che avrebbero ricevuto soldi indirizzati appunto in questi paesi a capi politici e partiti. finisce lì la notizia, dice ma quali sono questi partiti, quali sono questi politici, quali sono gli Stati? No. A grandi linee e poi arriva l'intervista di questo ex ambasciatore in un giornale di sinistra, La Repubblica, dove racconta che i soldi li hanno dati a dei partiti di centrodestra, tutti. Capite che secondo me le due cose sono collegate. Prima diciamo questo, poi diciamo questo, vediamo che impatto ha nell'opinione pubblica. Questo è quello che è successo e secondo me ha tutto un filo conduttore. Può essere che non usciranno mai i nomi dei paesi e i nomi dei soldi o perché sono falsità o perché serviva dire una mezza cosa e non dirla tutta. Non dico quali sono i 24 paesi perché sono anche paesi alleati agli Stati Uniti, non dico quali sono i nomi di partiti e politici perché potrebbero cadere dei governi in alcuni paesi, ma dico a grandi linee e poi tiro fuori un ambasciatore che va a fare una rivista, un'intervista con il giornale più di sinistra che c'è in Italia, La Repubblica, il più fazioso, e vediamo che succede. Quindi questo potrebbe essere l'aiutino che gli Stati Uniti vorrebbero dare alla sinistra per cercare di vincere le elezioni. Quindi a questo punto non so se arriverà mai il nome Italia, questi partiti e questi politici hanno ricevuto questi soldi perché sembrerebbe proprio che ci sia tutta un'architettura dietro questo, un'architettura ben precisa. Probabilmente questo non si chiarirà mai e questa roba andrà avanti come tema elettorale fino al 25 di settembre. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo poi, ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete con video di politica, notizie, fai da te. E poi c'è l'altro canale che si chiama In Cucina con Carla con video di cucina, piatti tipici, piatto tipico abruzzese. Va bene, grazie a tutti e ci vediamo tra poco. Arrivederci. Grazie a tutti.